Il dado è tratto, il destino della Virtus segnato. Dalla B e dai quattro meravigliosi anni nella seconda serie nazionale all'esclusione addirittura dalla Lega Pro, il passo è stato brevissimo, con la famiglia Maio che si porta sul gruppone la responsabilità di aver lasciato morire il calcio lancianese. Restano i bei ricordi, ma non possono bastare a cancellare le superficialità compiute dalla dirigenza in una delle stagioni più sciagurate dal 1924, anno della fondazione, ad oggi. Le prime avvisaglie di problemi economici già si erano manifestate a gennaio. Via i giocatori migliori, anche le bandiere. Dentro nuovi volti in una rivoluzione totale, per ridurre i costi e far quadrare un bilancio in rosso, le inadempienze amministrative erano state previste, con la speranza di assorbire i punti di penalizzazione in un miracolo calcistico che per poco non si è avverato. Eppure qualche infausto presagio già lo si annusava. Il patron Franco Maio era il più determinato a voler cedere il club all'unico soggetto che si è fatto vivo. Ricordate Stefano Bisogno da Cava dei Tirreni, spalleggiato da quella vecchia volpe di Vittorio Galigani? Furono Guglielmo e Valentina a dire di no, puntando i piedi e convinti di poter in qualche modo sanare la situazione, attingere ad altre riserve, cedere casomai ad altri, salvare la B e poi ricostruire. Una scelta di cuore, dissero coi lucciconi in conferenza stampa. Ad oggi quelle parole hanno il suono della presa in giro. Finale trilling di stagione, attumulazione avvenuta coi quattro punti di penalizzazione determinanti nel far cadere la ghigliottina sul capo del club, gli eventi sono precipitati. Via libera ad una conferenza stampa struggente e spiragli di rivalza soprattutto da parte della presidentessa. Penso che se io e mio fratello ritrovassimo l'entusiasmo, quello forte, quello del primo giorno, siamo in grado di ricostruire questa squadra e veramente di portarla in capo lista e quindi ritornare in sarebbe. Più pacato nelle intenzioni Guglielmo, che ha parlato di stimoli e di voglia da dover ritrovare. Poi il silenzio assordante, il milione e 800 mila euro da dover recuperare per pareggiare il bilancio in rosso, l'ultimo tentativo di convincere l'imprenditore Gilberto Candeloro ad accollarsi oneri e spese future, nel goffo obiettivo di lavarsi le mani ormai già sporche, tutto last minute. La piazza è stordita, frastornata, irritata da una dirigenza che adesso fila via, in fin dei conti mai tanto amata dalla fetta più calda e sanguigna del popolo rosso-nero che si sfoga sul web. Eppure fino a poco tempo fa si parlava di uno stadio futuristico su un modello Juventus, progettato dallo stesso architetto, di nuovi campi di allenamento a Frisa, di progetti stabili e duraturi, di un settore giovanile da potenziare, da inserire nel contesto di una società giovane appunto, effervescente e dinamica, solo sogni di vero in nulla. Il nuovo settore distinti, 300 mila euro sborsati da regione, dunque dalla collettività, adesso resterà vuoto a guardare deserto il campo di gioco. Sugli spalti, la scritta Virtus Lanciano, una società che adesso non c'è più, in liquidazione volontaria, altra beffa. Il Memmo vedrà solo protagonisti i ragazzi dell'atletica, il Villa delle Rose non sentirà più l'allegro vocio della linea verde-rossonera, se ne tornano a casa bastonati decine di allenatori, dirigenti, fisioterapisti, magazzinieri, segretari, la sede sarà chiusa, senza lavoro e col futuro incerto. La speranza adesso è riposta in qualche imprenditore, forse lo stesso Candeloro, che rifondi un club per ripartire dai dilettanti. Quattro splendidi anni di una storica e onorata Serie B non potranno mai cancellare le amarezze recenti. Lanciano si ritrova purtroppo nello stesso punto dal quale è iniziata otto anni fa l'avventura dei Maio. Loro, giovani, belli, ricchi e forti, sono nati dalla cenere, rilevando il club dal fallimento dell'imbonitore di Stanislao, e cenere purtroppo hanno restituito. Grazie.